Noi, ragazzi di oggi, noi, con tutto il mondo davanti a noi, viviamo nel sogno di poi Se io dovessi dare un consiglio a un mio amico per andare a scuola sui bagnoli, gli direi di non scegliere le scuole magari perché i genitori vogliono che vada in quella scuola o magari là c'è il suo amico preferito, ma deve dare in base alle sue conoscenze e alle sue capacità Bisogna prendere in mano il proprio destino e non farsi influenzare dai consigli agli altri Magari chiederli, ma scegliere con cura quei consigli che ti danno e non farti mai influenzare Non dovete mai avere paura di sbagliare, si possono accettare anche gli errori, ma dovete avere il coraggio di rialzarvi Credere che sia sempre possibile Non si smette mai di imparare Più passione ci metti nella cosa, più la fai bene Io trovo libertà di esprimermi quando esco con gli amici, gioco con gli amici, faccio attività che a me piacciono Ho libertà di esprimermi di solito quando gioco a calcio, che mi piace molto, è un'attività che mi piace fare Ho libertà di esprimermi di solito quando gioco a calcio, che mi piace molto, è un'attività che mi piace fare Io trovo libertà di esprimermi quando gioco con gli amici e mi diverto Allora, metti me le volte, quando ci lavorano, non si deve mangiare Ma perché stai lavorando? Perché bisogna puntare sui ragazzi, comunque sugli adolescenti, quando si parla di lavoro? Perché possono immaginare grandi cose Rami, Rami, sai una cosa? Mi hanno dato lavoro! Ma qual è lavoro? Non farmi ridere Aspetta, veramente, credici, a me mi hanno dato lavoro E accetto prima che pensavo che sia una stessa sbagliata L'accetto, l'accetto Il lavoro è importante, è bellissimo, mi affascina Stare ore e ore a guardare una persona che lavora E tutti insieme si può cantare Ragazzi di oggi no